Oggi, fratelli nel Signore, volevo parlarvi del battesimo in acqua, perché come è scritto nel Vangelo di Marco, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, dopo la conversione, dopo la nuova nascita, è importante obbedire a questo comando che Gesù ha lasciato di farsi battezzare in acqua. E' avvenuto, avviene prima di tutto, prima di tutto avviene che l'uomo viene salvato, viene purificato dai suoi peccati. Prima era morto nei suoi peccati, con la nuova nascita viene rigenerato spiritualmente, ottiene una nuova vita. I suoi peccati vengono perdonati, sono purificati per mezzo del sangue di Gesù. E dopo questa nuova nascita deve rendere la sua testimonianza, deve rendere testimonianza, diciamo davanti a tutti, deve rendere testimonianza con il battesimo in acqua. E adesso vediamo, appunto, i vari significati, perché il battesimo in acqua ha dei significati, in se stesso non ha un effetto rigenerante o che può intervenire nella nuova nascita. Il battesimo in acqua non interviene in nessuna maniera nella nuova nascita, ma è semplicemente una figura, un rappresentare qualcosa che è avvenuto dentro di noi. Quindi si rappresenta ai fratelli, a quelli del mondo, a tutto il mondo si rappresenta che qualcosa è cambiato. Ora vediamo, ci accingiamo a vedere insieme quali sono questi significati e poi parleremo anche della formula che viene utilizzata in maniera che alla fine si comprendano determinate cose sul battesimo in acqua e che quando ci troviamo, chi deve farsi battezzare deve tenere conto di queste cose. Chi è già stato battezzato in acqua, ricordatevi che questo discorso non è che è inutile o è passato, è sempre di attualità, perché ci troveremo sempre delle anime non credenti davanti a noi, che dobbiamo annunciargli l'Evangelo e poi, una volta che si convertono, dobbiamo dirgli che devono farsi battezzare in acqua. E se ci domandano, e per quale motivo mi devo far battezzare in acqua, dobbiamo essere in grado di dirgli, anche se non facciamo un'esposizione dottrinale dall'inizio alla fine, però degli elementi importanti glieli dobbiamo dire. Quindi, il battesimo in acqua, così come dobbiamo essere in grado di parlare anche di altre dottrine fondamentali, dobbiamo sapere anche qualcosa che riguarda questo. Quindi, anche se siamo già stati battezzati in acqua, ci interessa comunque a tutti anche questa dottrina, questi passaggi delle scritture che riguardano questo argomento. Per quanto riguarda il battesimo in acqua, andiamo a leggere in Romani. Al capitolo 6 leggiamo queste parole. Romani 6, dal versetto 1 leggiamo. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi, così non sia. Noi che siamo morti al peccato, Come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti, mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. È avvenuto quando abbiamo creduto in Cristo Gesù, quando lo Spirito Santo ha operato in noi e ci ha dato quella fiducia, quella fede di credere nel sacrificio che Cristo ha compiuto, e mediante questa fede nel sacrificio compiuto da Cristo nella croce siamo stati perdonati, salvati, lavati e purificati dai nostri peccati, in quel momento noi, il nostro uomo di peccato che albita in noi, è morto insieme a Cristo sulla croce. Cioè, noi, è avvenuto che siamo morti nel peccato, siamo morti con Cristo sulla croce. Quale parte di noi è morta? È morto in noi, è morto in noi, con Cristo sulla croce, il nostro vecchio uomo. Infatti, noi siamo stati, siamo stati rigenerati. Il nostro vecchio uomo, la nostra vecchia vita, i nostri vecchi pensieri, la nostra vecchia religione, i nostri vecchi abitudini, superstizioni, sbagli, e tutto quanto, tutto quello che non andava bene, che fanno parte appunto del vecchio uomo, sono morti con Cristo, e siamo diventati una nuova creatura. Quindi, questo è avvenuto quando noi abbiamo creduto in Cristo Gesù. Quando noi abbiamo creduto in Cristo, il nostro vecchio uomo è morto sulla croce con Cristo. Ora, cosa succede? Col battesimo in acqua, come viene rappresentato questo? Quando noi veniamo immersi, quando noi siamo stati immersi, chi è stato immerso, chi è stato battezzato in acqua lo ha già fatto, ma coloro che vengono immersi, che quindi nascono di nuovo, quindi il loro vecchio uomo è morto nella croce con Cristo, quando è morto Cristo, cosa succede? Questa morte di questo vecchio uomo viene rappresentato dal immergere il corpo nell'acqua, viene immerso totalmente. Perché essendo che l'uomo vecchio è morto, e come Cristo è morto ed è stato seppellito, così anche il nostro vecchio uomo va seppellito. Anche il vecchio uomo va seppellito. Col battesimo in acqua, una delle raffigurazioni che riguardano il battesimo in acqua, quando si viene immersi, è appunto questo, che il nostro vecchio uomo che è morto in Cristo viene seppellito. E questo è importante, fratelli, perché quel vecchio uomo si porta con sé, che viene seppellito, viene cancellato, viene gettato via, si testimonia, davanti a tutto il mondo, si testimonia che è la nostra vecchia vita. Se eravamo cattolici, il cattolicesimo viene seppellito, se eravamo musulmani viene seppellito. Quindi capite bene che il battesimo ha un grande significato. Per il battesimo in acqua si muore, si muore di più testimoniando col battesimo in acqua, talvolta nei paesi arabi che, diciamo, essendo salvati, credendo in Cristo. Perché col battesimo in acqua capiscono bene, sia i cattolici che i musulmani o altri, capiscono bene, anche i testimoni di Geova, capiscono bene che con quel rituale, con quella raffigurazione, tu stai seppellendo la tua vecchia vita, il tuo vecchio uomo, la tua condotta precedente che è sbagliata. Era sbagliata, tu l'hai riconosciuto ed ecco, ed ecco che lo vai a seppellire, lo vai ad annullare, perché in Cristo è stato annullato il corpo del peccato. È stato annullato. Ora, il peccato non ci signoreggia più. Siamo diventati, chi è nato di nuovo è diventata una nuova creatura. non lo signoreggia più e deve obbedire al comando dato dal Signore e deve farsi battezzare in acqua per seppellire questo uomo vecchio, per testimoniare davanti ai fratelli, davanti a tutto il mondo che sono morto. Il mio vecchio uomo è morto, le mie vecchie tradizioni, le mie vecchie peccati, tutto ciò che non era buono prima è morto e l'ho seppellito. L'abbiamo seppellito con il battesimo in acqua e questa è una rappresentazione. Quindi, il battesimo in acqua rappresenta, raffigura questo. Con la nuova nascita siamo morti con Cristo e il battesimo in acqua con l'immersione, l'immersione nelle acque rappresenta appunto il seppellire l'uomo vecchio. Il battesimo in acqua, noi leggiamo in Pietro, cosa non è? Ora vediamo cosa non è il battesimo in acqua. Perché bisogna dire anche questo? Ed è scritto. Bisogna dirlo questo perché molti fanno molte religioni, ma purtroppo anche nell'ambito evangelico, credono che credono che il battesimo in acqua sia una parte integrante della salvezza, cioè avvenga, si è salvati solamente se si viene anche battezzati in acqua. Ma questo non è assolutamente vero, perché il battesimo in acqua sì è una raffigurazione di ciò che si è ricevuto, sì è un'obbedienza ai comandamenti di Dio, però il battesimo in acqua non purifica dai peccati, il battesimo in acqua non opera una purificazione nella nostra anima, ma è semplicemente un'obbedienza a un comando di Dio. È importante, ma non interviene spiritualmente dentro di noi per purificare i peccati, guardate bene. E vediamo cosa dice a questo proposito, lo dice, ne parla Pietro. Pietro ne parla, nella sua prima epistola al capitolo 3 al versetto 21. Sta parlando del periodo in cui Noè, nel periodo in cui è venuto il diluvio e Noè insieme ad altri sette persone, quindi totale otto persone, furono salvate da mezza all'acqua. E parlando di questo dice Pietro, dice queste parole. alla qual figura corrisponde il battesimo, cioè quindi sta raffigurando quello che accadde a Noè col diluvio, Pietro lo sta raffigurando come se fosse il battesimo, quindi per essere salvati bisognava passare attraverso l'acqua, bisogna passare anche attraverso l'acqua. Però, però dice così ancora Pietro, Pietro dice, corrisponde al battesimo, non il nettamento delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, il quale ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che essendo andato in cielo e alla destra di Dio, dove angeli, principati, potenze, gli sono sottoposti. E qui Pietro dice chiaramente, sta parlando del battesimo, sta parlando del battesimo, quello che raffigura, quello che è stato raffigurato anche ai tempi di Noè, e di questo battesimo dice che non è il battesimo, il battesimo non è il nettamento delle sozzure della carne. Queste sozzure della carne sono i peccati, quindi il battesimo in acqua e questo è una cosa molto importante che dovete sia saperla voi e sia citarla quando si renderà necessario per farlo capire anche agli altri a chi magari è nel dubbio o non ha capito o gli è stato insegnato erroneamente. Ma il battesimo in acqua quindi come dice qui non è non avviene nessuna purificazione dei peccati. cos'è qui? Pietro dice però che cos'è perché da una parte dice cosa non è il battesimo in acqua e dall'altra invece dice che cosa è il battesimo in acqua è una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio quindi con il battesimo in acqua testimoniando al mondo che si è nati che si ha una volontà decisa e ferma di seppellire tutto ciò che è vecchio si sta chiedendo una buona coscienza a Dio si sta cercando di dimostrare che vogliamo che si vuole camminare con il Signore che si vuole obbedire ai Suoi comandamenti e questo è il primo a cui bisogna poi obbedire concretamente è chiaro che bisogna santificarsi non è che il primo e gli altri adesso per chi ancora non è stato battesato in acqua non è che è libero di fare quello che vuole è il primo nel senso particolare comando che dovrebbe venire subito dopo la nuova nascita perché perché anticamente negli atti degli apostoli quando quando le persone credevano venivano subito battezzate in acqua non avviene come come avviene ai tempi in questi tempi che si aspetta e si viene battezzato o si aspetta un certo numero perché non battezzano uno o due soltanto aspettano che ce ne sia un numero un numero più cospicuo per poterli battezzare comunque sia oppure gli fanno un corso che si prolunga per mesi forse anni a volte anche anni e dopo che hai fatto il corso che ti hanno spiegato che cosa è il battesimo che poi spiegano tante cose ma non spiegano cos'è il battesimo io pure mi sono trovato a farlo uno di questi corsi per battesimi ma non ho capito niente non mi ricordo niente e non avevo capito capito niente perché non so come mai ma non riuscivano a spiegare neanche neanche gli elementi minimi di questa di questa dottrina quindi vedete abbiamo visto che un altro un altro significato del battesimo in acqua è appunto quello lì di una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio ma ora vediamo che nel battesimo perché nel battesimo avviene un'immersione va bene si viene completamente immersi sotto all'acqua per significare che si è seppelliti con Cristo che si è morti con Cristo e l'uomo vecchio viene seppellito però poi dopo c'è anche una uscita di fuori dall'acqua anche quella ha un significato anche quella ha un significato biblico e qui andiamo a leggere in Colossesi al capitolo 2 dal versetto 12 essendo sta sempre parlando del battesimo stiamo parlando del battesimo in acqua essendo stati con lui sepolti nel battesimo nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti è avvenuto come è avvenuto per Gesù noi siamo morti con Cristo però con Cristo mediante la fede in Cristo che è morto ma che anche è risuscitato perché noi abbiamo fiducia in Dio che la potenza di Dio ha risuscitato Cristo dai morti noi per mezzo di questa fede guardate bene anche noi siamo risuscitati e il battesimo testimonia l'uscire fuori dall'acqua testimonia appunto che siamo risuscitati con Cristo per mezzo della fede che abbiamo avuto in lui quindi quindi anche uscire fuori dall'acqua ha il suo significato che è quello di ritornare in vita di risalire dall'acqua siamo risuscitati con Cristo quindi si risale dall'acqua come simbologia del risuscita che siamo stati risuscitati con Cristo perché il Dio la potenza di Dio ha risuscitato Cristo e la potenza di Dio ha risuscitato anche noi perché noi guardate bene eravamo morti noi siamo partiti che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e abbiamo avuto bisogno che Dio ci risuscitasse ci rigenerasse che noi dalla morte passassimo alla vita e questo è testimoniato tutte queste cose sono testimoniate appunto nel battesimo in acqua questo risuscitare in Cristo simboleggiato dal risalire dall'acqua del battesimo viene anche citato in Efesini in Efesini leggiamo queste parole al capitolo 4 al versetto 24 dice leggiamo dal versetto 23 ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità quando noi siamo stati risuscitati qui dice l'apostolo Paolo agli Efesini che siamo stati rivestiti da Cristo siamo stati rivestiti di un uomo nuovo questo rivestimento che cos'è? questo nostro uomo nuovo ha un nuovo vestito è stato rivestito di qualcosa di particolare che è la nostra condotta è la nostra nuova condotta la nostra nuova vita in Cristo quello è quindi questo essere rivestiti siamo stati rivestiti il nostro uomo nuovo è stato rivestito e questo rivestimento noi lo dobbiamo portare pulito fino alla fine quindi ci siamo rivestiti siamo diventati nuove creature ci siamo rivestiti di Cristo e questa condotta che piace al Signore nostro Gesù Cristo la dobbiamo portare avanti fino alla fine non la dobbiamo abbandonare mai quindi siamo risuscitati con Cristo e anche siamo stati rivestiti il nostro uomo nuovo è stato rivestito perché quando siamo usciti e quando siamo stati rigenerati ed è rappresentato dal battesimo in acqua dal momento in cui noi siamo risaliti dall'acqua in quel momento in quel momento rappresenta quella parte del battesimo in acqua rappresenta anche che noi viviamo in novità di vita siamo nuove creature e ci siamo rivestiti dell'uomo nuovo rivestiti di Cristo della volontà di Cristo e di compiere la volontà di Cristo e di 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 mantenerci fermi ai suoi comandamenti e questi sono diciamo i significati principali legati all'atto di essere immersi e all'atto di risalire dall'acqua ma nel battesimo nel battesimo ci sono anche altri significati perché quando uno viene battezzato gli viene fatta anche gli vengono fatte anche delle domande ad esempio prendiamo ad esempio andiamo a leggere a leggere in atti degli apostoli leggiamo quello che è avvenuto tra Filippo l'evangelista Filippo e Leonuco quindi al capitolo 8 in pratica il contesto in cui si muovono questi passaggi che leggeremo è questo il Dio ha mandato Filippo l'evangelista in una via deserta dove è passato Leonuco in un carro che stava leggendo il profeta Isaia Filippo gli dice ma tu comprendi quello che stai leggendo allora Leonuco confessa che non comprendeva se non c'è nessuno che glielo spieghi è salito sul carro anche Filippo anche Filippo e gli ha spiegato gli ha annunziato l'evangelio mentre passavano con il carro passano in un luogo dove c'era molta acqua sicuramente dalle domande da quello che chiede poi Leonuco si comprende che Filippo gli aveva parlato anche del battesimo in acqua o comunque lo conosceva allora quando passano vicino a molta acqua questo ci fa anche capire che il battesimo per battezzare in acqua era necessario che ci fosse molta acqua non poca acqua non è come fanno i cattolici romani che spruzzano un po' d'acqua sul bambino sul bambino e quello lo chiamano battesimo perché battesimo significa immersione è una parola in greco che significa immergere immersione quindi se noi prendiamo un corpo e lo immergiamo questo deve essere immerso non può essere asperso d'acqua non gli si può gettare un po' d'acqua quindi già questo ci fa capire che i battesimi che ministrano i cattolici per aspersione non sono confermati biblicamente infatti Gesù quando fu battezzato in acqua salì salì dall'acqua perché scese nell'acqua quindi scese nel Giordano e nel fiumo Giordano l'acqua era tanta e quindi fu battezzato cioè fu immerso completamente nell'acqua anche Gesù e così è avvenuto anche all'Eunuco e vediamo le parole che riguardano l'Eunuco al versetto quindi 8 capitolo 8 di Atti al versetto 36 e e cammin facendo giunsero a una certa acqua e Leunuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile Leunuco rispose io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio vedete e qui ho voluto citarvi questo passo in modo particolare per farvi capire che la cosa che Filippo ha messo davanti a Leunuco come impedimento è se tu credi capite cioè Leunuco ha voluto sapere ma io perché non posso essere battezzato in acqua e Filippo gli ha detto ma se tu credi con tutto il cuore cioè se tu sei un credente puoi essere battezzato il problema è se uno non è diventato credente quel battesimo se lo fa non serve a niente non è servito a niente non serve a niente perché la condizione fondamentale per essere battezzato in acqua è quella appunto di aver creduto in Gesù Cristo e infatti abbiamo appena detto che simboleggia una nuova nascita simboleggia un essere morti a Cristo una fede nella risurrezione di Cristo ma se tutto questo non c'è non è avvenuto nell'uomo in quell'uomo il battesimo in acqua non ha senso perché che cosa testimonia col battesimo in acqua se non ha ricevuto niente se non ha ricevuto le cose che il battesimo testimonia non serve a niente battezzare una persona se non ha sperimentato le cose cioè il battesimo in acqua rimane una forma di figura una rappresentazione una testimonianza di quello che si è già ricevuto cioè non è il battesimo in acqua che salva è una una figura un'obbedienza a Dio naturalmente un obbedire obbedire ai comandamenti di Dio è testimoniare a tutto il mondo che siamo diventati una nuova creatura chi si è fatto battezzare in acqua ha testimoniato a tutti i presenti prima e dopo quando l'ha raccontato a tutto il mondo che egli è diventato una nuova creatura questa è una testimonianza non ne avviene la salvezza in quel momento perché la salvezza deve essere già avvenuta come ha detto Filippo l'evangelista a all'eunuco gli ha detto se tu credi con tutto il cuore quindi non è solo un credere no io ho sempre creduto da bambino che esistesse Gesù non è che non ci credevo io ci credevo ma non era un credere con tutto il cuore non era quella fede quella fede che rigenerava non ero rigenerato ero sempre morto nei miei falli nei miei peccati anche i demoni credono che c'è un Dio solo cioè non è che i demoni o Satana non credono in Dio anche loro ci credono e che poi non obbediscono non hanno fede in Dio e non non hanno obbedito a Dio e non si sono sottomessi a Dio quindi qui Filippo giustamente dice se tu credi con tutto il cuore cioè senza tralasciare nulla se tu credi con tutto il cuore è possibile quindi questa è una questione molto importante perché perché quando si parla dei fratelli a qualcuno che si è appena convertito bisogna esporre anche queste cose cioè prima c'è la nuova nascita il credere e dopo essere salvati e dopo il battesimo se non c'è il credere il battesimo non serve non è servito a niente è una falsa alla fine diventa una falsa testimonianza quindi perché perché tu testimoni di qualcosa che non hai ricevuto e quindi è da rifare in questi casi è è da rifare e io credo che ce ne siano molti purtroppo sono molti quelli che si trovano nelle chiese che non hanno sono stati battezzati ma non hanno mai sperimentato la nuova nascita e quindi quelli se un giorno nasceranno di nuovo quelli dovranno essere ribattezzati se 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 non sono nati di nuovo anche se si sono fatti battezzare in acqua la loro condizione non è cambiata perché loro non sono veramente morti in Cristo quindi quella figura del battesimo quella rappresentazione di quello che è accaduto interiormente alle persone non serve a nulla non rappresenta nulla perché non hanno sperimentate quelle cose è una cosa vana in quel caso battezzare una persona incredula è inutile perché abbiamo detto prima Pietro ha detto che il battesimo in acqua non è il nettamento delle sozzure della carne non avviene una purificazione dei peccati perché ciò che purifica dai peccati come dice andiamo a leggere in prima Giovanni l'unica cosa che può purificare dai peccati non è il battesimo ma è il sangue di Gesù infatti Giovanni dice Giovanni nella sua prima epistola dice queste parole dice capitolo 1 prima Giovanni capitolo 1 versetto 7 dice ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato l'unica cosa dall'inizio e per tutta la nostra vita perché appena siamo nati di nuovo il sangue di Gesù ci ha purificato da tutti quei peccati commessi fino a quel momento nel nostro cammino che dobbiamo badare a non peccare a santificarci a stare lontani dal peccato però nel nostro cammino di questa terra sicuramente qualche volta sbagliamo pecchiamo ancora purtroppo la natura la natura peccaminosa rimane comunque attaccata al nostro corpo a questo corpo di carne e qualche volta ci porta a peccare ecco ma se noi confessiamo i nostri peccati a Gesù Cristo egli perché ha sparso il suo sangue ci purifica da ogni peccato quello che purifica dai peccati è il sangue di Gesù è solo e soltanto il sangue di Gesù che è stato sparso nella croce non è il battesimo in acqua e non è niente altro ma solo il sangue di Gesù quindi è importante conoscere queste cose cosa è veramente il battesimo in acqua da non confonderlo con la nuova nascita la nuova nascita la purificazione dei peccati la rigenerazione spirituale è una cosa testimoniare di questa rigenerazione spirituale della purificazione dei peccati che è già avvenuta testimoniarlo con il battesimo in acqua è un'altra cosa non sono da da confondere assieme non sono assolutamente da confondere quindi il battesimo in acqua è una rappresentazione di quello che è già già avvenuto in quella persona non avviene progressivamente non avviene con il battesimo in acqua e non avviene dopo a meno che avviene dopo se non era rigenerato prima può avvenire dopo certo però in quel caso non serve a niente la testimonianza di qualcosa che prima non era avvenuta legato al battesimo quindi abbiamo visto che cosa è il battesimo come viene rappresentato come viene spiegato dalle sacre scritture che cosa raffigura ma nel battesimo in acqua è importante che ci siano almeno due persone anche il numero delle persone è importante perché perché purtroppo ci sono quelli che cioè troviamo almeno io ho trovato per iscritto che erano da soli e si sono autobattezzati ebbene no noi le scritture ci dicono ci dicono che devono essere almeno due ci deve essere colui che deve essere battezzato chi ha chiesto di essere battezzato in acqua e ci deve essere poi colui che lo battezza questo è importante se analizzare tutte e due le persone alla luce alla luce del comando che Gesù ha dato in Matteo della formula che Gesù ha dato in Matteo al capitolo 28 al capitolo 28 Gesù ha dato quest'ordine ai suoi discepoli di battezzare in questa maniera con questa formula che adesso leggiamo e ne spieghiamo il perché per gli uni e per gli altri al capitolo 28 versetto 18 di Matteo sta scritto e Gesù accostatosi parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo qui per chi battezza uno si deve domandare ma colui che battezza nell'autorità di chi lo fa e chi battezza infatti lo deve fare nell'autorità del padre lo deve fare nell'autorità del figlio lo deve fare nell'autorità anche dello spirito santo così anche chi viene battezzato deve considerare sia il padre che il figliolo e lo spirito santo perché perché sta scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 capitolo 6 al versetto 44 dice vedete quindi abbiamo detto che il battesimo in acqua è una rappresentazione della salvezza che si è ottenuta questa salvezza come si è ottenuta cosa è avvenuto è avvenuto che il padre ad un certo momento ha attirato le persone verso il figliolo li ha attirati quindi nessuno può andare qui dice abbiamo letto che nessuno può venire a me queste sono le parole di Gesù nessuno può venire a me se non è il padre che lo attiri quindi chi viene battezzato nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo deve sapere che per la sua salvezza ha partecipato il padre poi dice ancora e naturalmente ha partecipato anche il figliolo perché è stato rigenerato è stato rigenerato perché Cristo è morto sulla croce e lo spargimento del suo sangue lo ha purificato da ogni peccato e lo spirito santo lo ha compunto e lo ha fatto gli ha fatto credere gli ha fatto credere in quel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto Cristo Gesù ha fatto conoscere il padre è venuto per far conoscere il padre vedete quindi come tutti e tre operano hanno operato sia sia il padre che il figliolo e lo spirito santo hanno operato e partecipato alla nostra salvezza il padre che ha spinto ci ha attirati verso Gesù Cristo lo spirito santo che ci ha compunto e ci ha messo in noi quella fede per credere in quel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto quindi chi battezza lo fa nell'autorità e nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perché sa che è per servire Dio per servire Cristo Gesù e per mezzo dello spirito santo che opera chi viene battezzato invece in acqua nel nome del padre del figliolo dello spirito santo lo fa deve essere cosciente che lo fa perché deve sapere che lui è stato salvato per l'opera unita insieme di tutti e tre hanno operato il padre ha operato il figliolo e ha operato anche lo spirito santo in lui per farlo nascere di nuovo non ha operato nella salvezza solo Cristo Gesù perché Cristo Gesù è vero è venuto ha compiuto la sua opera è venuto sulla terra è morto sulla croce ha offerto il suo corpo per noi e in lui anche noi siamo stati il nostro corpo di peccato è morto con lui questo sì però dobbiamo considerare anche che il padre ci ha attirati a Cristo e lo spirito santo che ci ha immersi nel corpo di Cristo ci ha compunti quanto al peccato al giudizio al capitolo 14 di Giovanni questa è l'opera che ha compiuto in noi lo spirito santo perché anche lo spirito santo ha partecipato facendoci nascere di nuovo operando dentro di noi queste cose capitolo 16 del vangelo di Giovanni al versetto 8 è scritto in questa maniera e quando sarà venuto qui sta parlando appunto dello spirito santo convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia e al giudizio al peccato perché ci ha fatto riconoscere peccatori bisognosi di salvezza alla giustizia perché abbiamo creduto quando abbiamo creduto creduto nel sacrificio che Cristo ha compiuto è il sangue che è stato sparso siamo stati giustificati quindi abbiamo creduto che nella giustizia di Dio abbiamo creduto per mezzo della fede in quello che Dio ha operato per noi e per tutti gli uomini per poterli salvare siamo stati salvati per la giustizia di Dio cioè siamo stati resi giusti perché Dio ci ha resi giusti attraverso la morte del suo figliolo attraverso la fede nella morte del suo figliolo attraverso lo spargimento del sangue di Cristo Gesù dell'agnello che ha tolto i peccati che toglie i peccati del mondo e in questa opera chi l'ha compiuta non è venuta da noi stessi questa opera è stata compiuta dallo Spirito Santo quindi battezzare farsi battezzare e battezzare nel nome del padre del figliolo e dello Spirito Santo essendo in un campo pieno di significati il battesimo è pieno di significati abbiamo visto prima i significati che ha il battesimo ma anche nella formula c'ha i suoi significati e noi noi dobbiamo dobbiamo battezzare chi si troverà a battezzare è obbligato a battezzare nel nome del padre del figliolo e dello Spirito Santo e chi invece è stato battezzato chi deve essere battezzato o è stato battezzato in acqua è corretto che venga che sia stato battezzato nel nome del padre del figliolo e dello Spirito Santo perché ci sono tutti questi significati che riguardano il padre il figliolo e lo Spirito Santo perché ha creduto ha creduto che tutti e tre hanno partecipato alla sua salvezza questo è vero questo è un comando questo è un comando che è scritto una volta sola nelle scritture badate bene ma anche se è scritta una volta sola è sempre un comando di Dio ci sono altri passi che sono scritti una volta sola nelle sacre scritture e non è che che siccome è scritto una volta sola questo non va praticato ad esempio prendiamo un esempio l'unzione dell'olio che gli anziani sono chiamati a fare quando qualcuno che è infermo lo chiama a casa gli chiede agli anziani chiama gli anziani a casa sua perché è infermo affinché lo ungano d'olio e preghino su di lui è scritto una volta sola ma quella è una cosa che si deve praticare è un qualcosa che si può e si deve praticare è obbligatorio perché lo dice la parola di Dio ma di casi simili ce ne sono altri quindi il fatto che il comando di Gesù di battezzare nel nome del Padre del Figlione dello Spirito Santo sia scritto una volta sola perché in effetti è così e questo non toglie assolutamente che ciò va osservato non è il numero dei passi che ci può dire se quel comando deve essere osservato oppure no è chiaro che se un comando viene citato più volte bisogna considerarlo non è che non lo consideriamo ma se un comando è citato una volta sola perché nessuno non si deve trascurare anche ciò che è scritto una volta sola non deve essere trascurato si deve dare il giusto peso e qui la questione è che il battesimo in acqua si deve praticare ogni qual volta si converte qualcuno è obbligatorio e ogni volta che si battezza qualcuno è giusto porsi la questione in quale formula bisogna battezzarlo e quindi si devono considerare tutti i passi della scrittura che portano che portano alla conclusione di a una conclusione che considera tutta la somma della parola cioè senza tralasciare nulla e il passo che è più completo che non tralascia nulla è appunto il passo della formula che Gesù ha dato perché ci sono voi sapete che ci sono gli unitariani o antitrinitariani che non credono che ci siano tre persone che formino un solo e unico vero Dio allora per questo motivo loro sono costretti a spingere per annullare il passaggio di Matteo 28 ma è per questo cioè non è che il comando è sbagliato è che loro annullano i significati che ci sono in quel passo anche l'attacco che fanno gli unitariani a quel passo dimostra che quel passo vuole dire molte cose ed ecco perché è quello il comando giusto la giusta formula per battezzare in acqua perché in quelle parole ci sono tutti il significato completo della salvezza che si ottiene in Cristo con la partecipazione del padre del figliolo e anche dello spirito santo quindi chi non battezza nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo e chi non viene battezzato nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo disconosce disconosce due delle persone che fanno parte appunto della trinità che fanno parte della divinità che la divinità è unica ma è formata da tre persone dal padre dal figliolo e dallo spirito santo i tre sono uno però sono tre formano un unico e vero dio ma sono tre indipendenti esistenti separatamente l'uno dall'altro con una volontà propria in perfetta comunione tra di loro e formano un unico e vero dio cioè il padre non è il figliolo e il figliolo non è il padre e così anche lo spirito santo è lo spirito santo non è né il figliolo né il padre quindi sono tre e allora con quella formula la formula corretta del del battesimo in acqua deve essere appunto considerata quella lì che Gesù ha ordinato ha chiaramente ordinato i suoi discepoli di battezzare con quella formula purtroppo ci sono è vero non purtroppo cioè purtroppo ci sono quelli che leggendo le scritture in modo approssimativo non considerando la somma della parola leggono questi passaggi che adesso prenderemo dobbiamo andare in atti degli apostoli al capitolo 8 quando Filippo perché prima Filippo prima di evangelizzare Leonuco era stato in Samaria e aveva annunziato l'Evangelo ai sammaritani questi sammaritani si erano convertiti e Filippo li aveva battezzati in acqua li aveva dopo subito dopo subito dopo che si erano convertiti subito Filippo li aveva battezzati in acqua e di questi al versetto 15 stanno scritte queste parole 8 15 di atti i quali essendo discesi là pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo qui praticamente dopo che ricevettero per chiarire il quadro il contesto dopo che i sammaritani ricevettero diciamo la salvezza da Dio per l'evangelizzazione di Filippo e dopo che furono battezzati in acqua i credenti di Gerusalemme gli apostoli che erano a Gerusalemme udito che i sammaritani avevano ricevuto l'evangelo mandarono Pietro e Giovanni affinché imponessero loro le mani per ricevere lo Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo e qui in questo contesto Luca scrive queste parole al versetto 15 lo rileggiavo i quali essendo discesi la quindi Pietro e Giovanni essendo discesi la pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù qui vuole dire vuole dire vuole dire nell'autorità che Gesù ha dato non vuole dire che sono stati battezzati nel nome di Gesù altrimenti se avessero battezzato nel solo nome di Gesù sarebbe accaduto che non avrebbero obbedito al comando che Gesù ha dato che lo stesso Gesù ha dato perché Gesù ha dato un ordine ben preciso in Matteo 28 19 20 ha detto di battezzare il nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo e questo è il comando che ha dato qui Luca sta citando quello che è avvenuto e non ha citato la formula ma bensì ha citato qui dicendo nel nome di Gesù ha citato che sono stati samaritani battezzati nell'autorità di Gesù nell'autorità che Gesù questo è il significato ora se si prende se si prende diciamo questo passo si prende questo pezzettino senza considerare tutto il resto delle scritture è chiaro che facciamo dire poi alla scrittura che si deve battezzare nel nome di Gesù ma noi dobbiamo come sempre abbiamo detto dobbiamo considerare sempre la somma della parola questo di battezzare nel nome di Gesù c'è scritto anche in altri due passaggi però ci sono scritti anche altri passi che leggeremo adesso in atti andando avanti per ritornare all'Eunuco va bene torniamo all'Eunuco 8.38 dice e comandò quindi qui siamo sempre tra Filippo e l'Eunuco dopo che fu battezzato l'Eunuco anzi quando fu battezzato c'è scritto Luca dice queste parole e comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua cioè scesero ambedue nell'acqua sia Filippo che l'Eunuco e Filippo lo battezzò e quando furono saliti fuori dall'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo voglio farvi notare che qui è scritto e Filippo lo battezzò vedete non c'è scritto né nel nome di Gesù e né nella formula in un'altra formula qui c'è scritto soltanto che Filippo lo battezzò adesso se io se io se uno può prendere quel passaggio in atti dove c'è scritto che furono i samaritani battezzati nel nome di Gesù potrebbe venire un altro e prendere questo passaggio e dire sì Filippo battezzò l'Eunuco però lo battezzò senza alcuna formula non usò alcuna formula perché? perché non c'è scritto qua e la stessa medesima cosa la vediamo anche in altri passaggi ad esempio andiamo avanti in atti sempre rimaniamo in atti degli apostoli al capitolo 16 al versetto 15 sulla conversione di Lidia che dopo fu battezzata lei e quelli di casa sua stanno scritte queste parole e dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo se mi avete giudicata fedele al Signore entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza e dopo che fu battezzata qui la scrittura ci dice che Lidia fu battezzata però non ci dice la formula quindi noi usando anche questo passaggio potremmo dire va bene l'importante è che uno sia battezzato perché Leonuco c'è scritto che fu battezzato e non c'è scritta la formula nel nome di chi non c'è scritto Lidia è stata battezzata e non c'è scritto non si fa riferimento alcuno alla formula e quindi questo potrebbe farci capire ci porta a capire che si può battezzare anche senza alcuna formula questo discorso è sbagliato lo sto facendo solamente per farvi capire le conclusioni che si possono arrivare quando non si considera la somma della parola di Dio questo ragionamento lo sto facendo con voi per farvi capire anche quanto è importante utilizzare sempre il principio della somma della parola è verità ricordatevelo sempre la somma della parola è verità noi su determinate dottrine e altri ragionamenti biblici meditazioni dobbiamo considerare la somma della parola non solo alcuni passaggi o un un solo passaggio ma dobbiamo per fare una dottrina è possibile farla ma se questa non contrasta con il resto io non posso ragionare in questa maniera e dire siccome alcuni furono battezzati senza alcuna formula si può battezzare anche senza formula non si può perché si contraviene al passaggio di Matteo 28 ma non è corretto neanche quello che dicono gli unitariani che battezzano nel solo nome di Gesù perché si contraviene sempre a quello che sta scritto in Matteo 28 18 19 mentre se si battezza se si viene battezzati con la formula trinitariana nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo non si trascura niente non si contrasta perché rientrano tutte le altre casistiche nel nome di Gesù ebbene nel nome di Gesù nella formula trinitariana c'è nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo quindi c'è e compreso non si trascura invece nel solo nome di Gesù si trascurano gli altri due ma lo scopo è ben preciso badate bene gli unitariani trascurano quel comando perché perché vogliono annullare la Trinità non perché la scrittura dica di fare così ma perché 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 vogliono annullare cancellare nascondere la presenza della Trinità nelle Sacre Scritture invece noi vediamo che che usando il principio fondamentale della somma della parola e verità come scritto non è che non è che è un qualcosa che ci siamo inventati noi al Salmo 119 160 stanno scritte queste parole la somma della tua parola è verità è importante è importante è fondamentale questo perché qui dice non è che verità solo una frase o un passaggio ma è la somma della tua parola è verità e questo è importante la somma la totalità della parola è verità è nell'insieme che è verità perché io potrei prendere dei pezzi per far dire alla scrittura quello che non dice se io prendo solo il Vecchio Testamento e impongo di nuovo i sacrifici e tralascio il Nuovo Testamento cioè in se stesso è scritto che nel Vecchio cioè è scritto nella legge di Mosè che bisognava fare i sacrifici ma se noi non consideriamo anche il Nuovo Testamento arriviamo a una conclusione sbagliata è scritto che le tribù di Israele dovevano osservare la legge dovevano farsi circoncidere e quello è scritto se io prendo solo i passaggi delle scritture che parlano della circoncisione e tralascio le altre cose che sono scritte mi metto di nuovo a imporre la legge di Mosè capite come poi fanno taluni cioè io non sto dicendo cose assurde perché ci sono gruppi religiosi che che prendendo pezzi della scrittura impongono di non mangiare più carne di maiale impongono neanche di bere caffè impongono di non mangiare le cozze e altri e altri cibi di fare tante cose che alla luce della somma della parola di Dio non sono più oggi da osservare perché Gesù ha detto per i cibi ha detto dicendo in questa maniera cioè siccome non è quello che entra nel corpo che contamina l'uomo non è quello che entra nel corpo ma quello che esce dal proprio cuore che contamina il corpo dell'uomo allora se non è il cibo se non è il cibo allora cioè che senso ha se non si viene contaminati nel mangiare determinati cibi allora tutti i cibi sono puri tutti i cibi li possiamo mangiare e infatti era quello il senso che Gesù ha voluto dare e così hanno capito bene i suoi discepoli perché dopo sta scritto nei Vangeli che dicendo così faceva tutti quanti i cibi puri capirono in questa maniera i discepoli compresero questo che potevano da quel momento mangiare di ogni tipo di cibo e così noi abbiamo compreso però vedete alla luce della somma della parola possiamo fare queste conclusioni e sempre alla somma della parola e la somma della parola la dobbiamo utilizzare in tutte le questioni soprattutto dobbiamo guardare la somma della parola quando c'è una discussione in atto perché se siamo tutti d'accordo è chiaro che non sorge nessuna problematica non c'è quella necessità di andare ad esaminare tutto ma qualora ci sia qualcuno che ci muove qualche critica o che insegna una determinata cosa che contrasta con quello che magari noi conosciamo o crediamo è bene andare a leggere la somma della parola la somma a vedere un po' tutti i passaggi cosa dicono a tal proposito e la deduzione che se ne deve trarre deve essere una soluzione diciamo valida deve essere una buona soluzione nel senso che deve essere la verità deve essere una soluzione presa con intendimento perché il fatto che prendano tre passi no? gli unitariani prendono tre passi dove c'è scritto che battezzarono in acqua nel nome di Gesù però tralasciano Matteo 28 19 se noi battezziamo nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo noi non tralasciamo i tre passi di atti capite? quindi vediamo un numero di passi che anche se più numerosi però contrastano con quanto da Gesù comandato mentre se noi obbediamo a quanto Gesù ha comandato nella formula trinitariana non contrastiamo i tre passi citati in atti degli apostoli noi li confermiamo vedete quindi nel prendere arrivare a una determinata conclusione lo si deve fare in una certa maniera quindi con la sapienza che Dio che Dio dà è chiaro che alcuni li acceca e li indurisce il Signore e arrivano conclusioni sbagliate ma noi dobbiamo chiedere domandare a Dio intendimente sapienza affinché giungiamo sempre giungiamo alle giuste conclusioni è l'intendimento che fa la differenza tra i credenti è l'intendimento cioè quello che uno intende sulla parola sui passi su tutta la somma della parola è l'intendimento infatti chi è corrotto chi è sviato dalla verità chi non ama la verità chi non osserva i comandamenti di Dio non ha intendimento non intende la verità della parola di Dio e li potete benissimo li sentite tutti i giorni parlare scrivere queste persone che non intendono non intendono talvolta proprio cose semplici proprio ma perché Dio li ha resi li ha induriti perché non si sottopongono alla parola di Dio e Dio non gliela fa intendere 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 la parola bisogna inginocchiarsi davanti a Dio e pregare bisogna pregare studiare la parola e pregare non è che si intende così perché siamo bravi a studiare e siamo intelligenti abbiamo fatto le scuole migliori no non è la scuola che hai fatto non è l'intelligenza tua che hai ma è la ginocchia terra la richiesta a Dio che hai fatto di intendere le scritture è quello che viene esaudito e quando tu ti metti a studiare hai preghi studi e preghi a volte contemporaneamente per chiedere Signore io voglio comprendere la tua parola io la voglio comprendere non come voglio io ma come tu vuoi come tu hai stabilito voglio conoscere la tua volontà non quello che mi piace a me allora il Dio ci dà intendimento ci fa comprendere la parola secondo la sua volontà quelli che non gli sono graditi il Dio li acceca li rende induriti li offusca la mente il cuore non intendono la verità noi dobbiamo essere di quelli che ricercano la verità e che ricercano di intenderla secondo la somma della parola la somma della parola è verità quindi questo principio non dobbiamo mai dimenticarcelo perché talvolta anche se c'è scritta una tale cosa non compresa può creare danni è scritto battezzare nel nome di Gesù ma lei non è inteso correttamente dagli unitariani per chi li intende nell'autorità di Gesù perché c'erano sei nella scrittura si parla di sei battesimi c'era anche il battesimo di Giovanni Battista Giovanni Battista i suoi discepoli battezzavano con l'autorità chiamiamola così di Giovanni Battista quella che discendeva sempre da Dio ma era sempre dal cielo però passava attraverso Giovanni Battista l'autorità per battezzare dopo che è venuto Gesù Cristo che l'autorità adesso di battezzare in acqua viene da chi da Gesù viene da Dio che passa attraverso Gesù Cristo quindi quando si dice battezzare nel nome di Gesù vuole dire quello però come si come si deve fare nel momento pratico in cui si battezza una persona o si vuole essere battezzati si deve richiedere di essere battezzati nella formula del padre nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e chi battezza lo deve fare con questa formula sapendo cosa hanno fatto sia il padre che il figliolo e che lo spirito santo capite quindi sempre il principio della somma della parola la somma della parola questo lo insisteremo sempre a dirlo lo diremo sempre perché ci vuole uno sforzo d'altronde è scritto in proverbi nei proverbi è scritto che la gloria di Dio sta nel nascondere le cose e la gloria dei resta nell'investigarle quindi certe cose sono nascoste ma sono nascoste per quelli a cui Dio non le rivela se uno è un insensato è perché Dio non gli ha rivelato non gli ha dato sapienza se uno è disavveduto è perché Dio l'ha reso così quindi noi dobbiamo attenerci strettamente al Signore perché nella comunione con Dio la santificazione segue anche la sapienza e l'intelligenza nel comprendere la sua parola e capire la sua parola attenersi ai suoi comandamenti si diventa veramente discepoli di Cristo non solo dei discepoli così all'acqua di rose ma veramente dei discepoli che ascoltano il proprio maestro e che osservano la parola del loro maestro e questo ci procurerà l'entrata nel regno dei cieli stando fermi nella fede santificandoci pregando il Dio di intendere la sua parola per rimanere fermi nella verità perché badate bene basta perdere comunione con Dio e dopo anche con la scrittura ci si svia non c'è niente da fare non è che si rimane sempre nella stessa maniera infatti conosciamo certi predicatori negli anni hanno predicato bene a un certo punto si sviano cominciano a predicare male lo stesso Pietro parla di falsi dottori che lo sono diventati che hanno rinnegato Cristo lo hanno rinnegato lo hanno rinnegato ma erano prima dei veri dottori da parte di Dio che insegnavano la sana dottrina ma a un certo punto cosa fanno? abbandonano la via della verità abbandonano abbandonano la via che Cristo ha indicato e si mettono a predicare loro stessi o altre cose della loro organizzazione o altro quindi fratelli vi sto ammonendo ed esortando a rimanere attaccati alla parola perché se non si rimane attaccati alla parola se non si rimane attaccati in comunione con Dio ci si svia fratelli cioè in comunione con il Signore è nella santificazione altrimenti altrimenti si diventa come sono tanti altri settari come tanti altri credenti che si sono sviati quanto alla verità perché lo sviamento di cuore di mente dopo porta anche a uno sviamento nella condotta cioè se non è presente il Signore se non è il Signore che guida quella persona anche la condotta dopo diventerà malvagia un cuore malvagio una condotta malvagia senza sapienza senza intelligenza senza intendere le scritture e si comincerà a dire cose insensate senza senso senza che abbiano sale e senza luce perché non si è in comunione con Dio quindi per concludere fratelli abbiamo visto cos'è il battesimo in acqua abbiamo visto anche cosa non è quindi il battesimo non purifica da ogni peccato che essere immergersi significa essere seppelliti essere seppelliti il nostro uomo vecchio viene seppellito perché è morto è morto in Cristo nella croce con Cristo il nostro uomo vecchio è morto siamo morti al peccato e si viene seppelliti così come è stato seppellito Gesù Cristo così veniamo il nostro uomo vecchio essendo morto con lui viene seppellito quando invece si viene si risale dall'acqua quello simboleggia la nostra nuova nascita siamo diventati una nuova creatura ci siamo rivestiti di Cristo e quindi la nostra condotta deve essere un'altra deve essere nuova non deve essere come come la stessa che avevamo quando eravamo perduti nei falli e nei peccati il battesimo in acqua ancora è una richiesta come dice l'Apostolo Pietro è una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio la formula deve essere quella nel padre nel figliolo e nello Spirito Santo sia per chi battezza è importante sia per chi viene battezzato perché chi battezza l'autorità rappresenta l'autorità che gli permette di fare ciò mentre per chi viene battezzato testimonia testimonia con quella formula che ha creduto sia nel padre che nel figliolo che nello Spirito Santo che hanno compiuto hanno operato tutti e tre nel salvarlo nel portarlo alla salvezza e questo è brevemente diciamo quello che si poteva dire sul battesimo in acqua è chiaro che ci possono essere tante altre cose da dire da aggiungere da fare esempi pratici come sono scritti nella parola però questo era il diciamo il passaggio principale i passaggi principali sono stati affrontati a Dio che siede sul trono siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amè grazie a tutti